ah perché che è scritto nel titolo scusate c'è scritto ultimo giorno prima della maratona quindi domani è la maratona no 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 aspettate no no modificare il titolo io l'ho scritto sbagliato ho sbagliato a scrivere titolo ragazzi modificate il titolo no no cazzo io l'italiano ultimo giorno prima della no 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 aspettate no 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 cazzo ma che cazzo è ma che ma che sta succedendo ma che che è oh ma che è oh che sta succedendo oddio sta cambiando il titolo che sta succedendo ok basta